sa cosa ho pensato allora aspetta aspetta è un problema ma ho visto un pad ho visto un del tavolo per un secondo lo dico di venire qua aspetta chi viene da ridere quello il problema è presente il gioco quello su mobile in quello che tipo dipinge i treni poi ti può venire in corso dal poliziotto dallo sbirro col cane ma si chiama oddio bravissima si può essere tu non hai giocato la gente che ti può parte lo sbirro col fischietto ok hai visto gli edit di su tik tok tipo che mi sono tipo su fortuna non so perché quando guarda dalla immagine profilo di discord mi sono immaginato lo spiro di super si insegue il tizio con il pischiettino poi fa tipo e comincia a inseguirlo te lo giuro immaginato che per questo com'era tipo in creativa non so perché no non ci credo siamo circondati dobbiamo carci questi qua sono chi così qua sinistra c'è che io ho fatto 85 ho fatto 85 doppia a lo stesso dopo di sapere di scotta e hanno più di sete credo 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 crede te li sa certo c'è tu portuno giocata malissimo comunque vabbè sono di distruggi sono entrambi banche 86 da qualche parte non essere a sinistra giù non capisco se nel bush si nel bush 19 a uno che non ho con uno che quindi sono due di uno adesso sono uno e di sei doppio ma c'è l'albero che può cadere no tra degli alberi locali porto porto effettivamente si god play onestamente il bush non sono da qua cito 40 a 100 l'altro morto hanno in legno 100 140 morto erano due team 90 120 che mi ha sparato forse è un isolo entro ho gelato no non è vero dove hold mio boxato gli ha lasciato le zoop l'amico occhio l'altro team facciamo la fast 140 morto vieni vieni faccio una swoop e ci killiamo quello no la morto che fortuna vabbè usciamo questo qua solo allora 29 100 lo spammo lo spammo 29 no cato no mi entro in colpa va bene no no l'albero no 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 aspetta che ho capito non è difficile 140 ho gelato ancora 200 ho riscato a dimanire il reclope dell'albero ci mancano ci mancano due soli e l'appello comunque qua devi mirare la tua si 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 75 1 hanno un crack 20 white ok andiamo Ok, andiamo Ah, se ne hai fatto il solo, eh Perché ti è arrivato il finish È il solo Fondi attento Potrebbe essere bravo È un fenomeno, te lo giuro È un cazzo di fenomeno È fatto male Sto facendolo solo Ok, sì L'ho crackato, sì, sì 1v1 Ok, arrampi Tu puoi arrampicare E dopo gli fai un fluscio Eh, provo, ma se non me lo fa prima lui Vuoi? Porco Nice Madonna, pure in uno scopo con la pistola Bitch, motherfucker Ho visto Spicy Sì, la kill su quella era bellissima 5 euro No, non può Non so se è una reale, non penso Oddio, avevamo un sacco di kill però 18 kill win Raga, vedremo adesso, secondo me Vediamo Capi 99% Capi 99% Io ti giuro non ci voglio credere Ti giuro su Dio Io rifiuto Non sparai, non sparai- Ti giuro È stato morto È stato morto È stato morto È stato morto L'ho capito, vabbè, questi te lo giuro, avevano qualcosa con la mira, è impossibile. Ogni volta capivo il muro, era un pre-fire instant, te lo giuro, è una roba assurda. Ma infatti questo qua è... E non sarà il vero, ma non sarà mai il vero. Oh no, 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 non penso. Frate, è il momento del 0%. Ok, sì, ok, sì, no. Porco 2. Minchia, 3. Cioè, per farti capire quante persone ci sono, manco 4k. Eh, pochissime. Scorso season erano più di 30k.